Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie anche alla Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno e Laurino, a testimonianza di un rapporto anche con il territorio che guarda il mondo economico e finanziario. Sì, la banca, ho detto anche qualche altra volta, la Banca Montepruno di Roscigno è una banca amica del territorio, quindi viene incontro alle varie esigenze, non solo quelle del credito che riguardano l'esigenza degli imprenditori o delle famiglie, ma anche nelle attività culturali e lo vediamo presente quasi in tutte le iniziative culturali. Questo vuol dire che è radicato sul territorio che amica soprattutto i loro investimenti alla crescita di questo territorio del nostro Valle Lidiano. Abbiamo creduto sin dall'inizio che appoggiare le scuole e stare vicino agli insegnanti e ai presidi sia cosa dovuta, non solo perché le finanze di questi istituti sono già povere e non solo perché le banche debbono stare vicine a queste istituzioni, ma perché bisogna credere in quelli che sono i valori forti della scuola e la trasmissione di quei valori che gli insegnanti pongono alla base di ogni crescita importante per i ragazzi. Quindi fare cultura oggi credo sia la base, ce n'è bisogno secondo noi di fare cultura, bisogna in tutti i modi dare i mezzi opportuni per poterlo fare. La manifestazione di stasera è qualcosa veramente di importante, non tutti sono capaci di organizzare nell'ambito del proprio lavoro la presentazione di un libro poi fatto dagli allunni, delle professoresse, un lavoro di gruppo che dimostra come si è capace di stare insieme e noi insieme alla scuola abbiamo voluto certamente essere presenti questa sera, convinti sempre di più che dove c'è cultura non solo c'è banca, ma c'è territorio, c'è vita.